Un mondo splendido, colorato e magico, lì del fuori spivono, pace sempre in armonia. Beh, non sempre in armonia, bisogna dirlo. Allora amico, sei benvenuti a questo video di ultra super mega recensione di My Little Pony Franchise Beast's Magic. Non azzeccherò mai la pronuncia in inglese. Ovviamente non sarà un solo episodio, ci sono talmente tante cose da dire e da chiarire che un solo video non sarà mai sufficiente. Quindi saranno tanti video per spiegare ogni cosa. Questo primo video parlerà della storia di My Little Pony. E bisogna dirlo, My Little Pony si merita di sicuro il Guinness World Record come la serie a cartoni, ma penso anche rispetto a telefilm, film non credo, Spider-Man forse la supera in questo, con più reboot nella storia. Perché ha subito ben quattro reboot. Infatti la prima generazione, perché i broni hanno classificato questi reboot come generazioni, la prima generazione, la prima volta che questo cartone vide la luce, fu nel 1986, chiamata in italiano Volami o Minipony. Quante volte la cantavo con Cristina d'Avena? Praticamente io avevo un anno quando questo cartone è uscito. La prima volta però che l'ho visto fu nel 92, quando cominciò My Little Pony Tales, che però è sempre sulla linea dei giocattoli della prima generazione. Poi ci furono diverse rivisitazioni, ci fu appunto la seconda generazione, la terza, la 3.5 è stata chiamata, che è stata predinta una serie di transizione, che per fortuna io non ho visto, anche perché era iperstilizzata, con uno storyboard, uno script veramente banale, stupido, veramente orrendo. E poi c'è stata la quarta generazione, appunto My Little Pony Frangipis Magic, forse adesso ce l'ho azzeccata a dirlo. Prima ho fatto le prove e non riuscivo a pronunciarlo, non so perché. Qui una di... cos'è esattamente My Little Pony? Si tratta di una serie a cartoni basata ovviamente sui pony, ma com'è nata? Beh, in questo caso bisogna dire che è stato proprio merito di un effetto farfalla. Avete presente Butterfly Effect? Ci hanno fatto anche un film, insomma, la teoria secondo cui se una farfalla sbatte le ali in un punto del pianeta, dall'altra parte si scatena un uragano. In realtà, vabbè, sarebbe più che altro una metafora per dire che ogni azione che tu prendi nella vita, o anche in un singolo momento, appunto, poi cambia il corso del tuo destino e quello di tutti gli altri. C'è anche un videogioco che ai bambini sconsiglio di giocare perché è horror, Until Dawn o Until Dawn, insomma, non so com'è esattamente la pronuncia, in inglese faccio schifo. E lì è anche un videogioco dove tu, in base alle decisioni che fai prendere ai personaggi, cambi il corso della storia. E perché dico quindi che My Little Pony è un effetto farfalla? Perché la creatrice di questi pony era Bonnie Di Zorcheli, anche qui penso proprio di aver strasbagliato la pronuncia del nome, ed è una donna che aveva da piccola il sogno di avere un pony, ma il padre non aveva il denaro per comprargli e lei, per consolarsi, creò dei giocattoli rappresentanti i pony. L'Asbro li comprò, ci fece un cartone animato, vola mio mini pony per pubblicizzare il prodotto, e il resto è storia. Lo spiega molto meglio Croax89, vedetevi il fando di My Little Pony è una cosa bella e capirete. Ma appunto, questo è appunto l'effetto farfalla, se la bambina avesse avuto il pony dal padre, non avrebbe mai creato i giocattoli, se Bonnie Di Zorcheli appunto non avesse avuto un pony, non avrebbe mai creato i giocattoli, l'Asbro non avrebbe mai fatto My Little Pony, quindi meno male che il papà non aveva denaro. No vabbè, scherzi a parte. My Little Pony è stata veramente una gran serie animata, io quando da piccolo la vedevo, mi emozionavo tantissimo, adoravo quella serie, anche perché i pony effettivamente erano pony. Ora, non per dire che i disegni di questa nuova generazione di My Little Pony, French GPs is Magica, sicuramente di nuovo ho sbagliato pronuncia, siano fatti male, anzi, mi piace questo stile semplice, ma comunque pulito e ben fatto. Però, appunto, diciamocelo, non sono pony, sono alieni ponyforme, così come per gli esseri umani c'è l'alieno classico, corpo piccolo, testa enorme e occhi giganti, anche qui sono pony dal corpo piccolo, testa grande e occhi giganti, alieni ponyforme, quelli non sono pony. Però, appunto, sono anche più facili da disegnare, quindi viva quelli che amano disegnare come me che li possono riprodurre bene. Non sapete quanto mi sono dannato per riuscire a disegnare bene i cavalli e i pony in stile realistico, terribile. Ma, appunto, io adoravo la prima generazione, perché era comunque molto naturale e abbastanza selvatica, se vogliamo, perché i pony vivevano in una valle, in una bella vallata, dove non c'erano edifici moderni o comunque tanti palazzi. C'era il castello, un altro paio di edifici medievali, c'era Villa Paradiso, dove questi pony andavano a dormire e basta, il resto si viveva nella natura. Quindi erano comunque, non erano pony da città, ecco, come quelli che si vedono adesso. In realtà, i pony che si comportano come noi erano comparsi fin dalla terza generazione. Si vedeva un po' di più nella seconda, però nella terza era stato molto più marcato, perché ogni pony aveva la sua casa, molti avevano una loro attività, lavoravano come lavoriamo noi, usavano gli oggetti che utilizziamo noi. Quindi erano pony che vivevano come umani, praticamente. Poi ovviamente la differenza è che mentre nella prima generazione c'erano tre esseri umani che interagivano con loro, due bambine e un bambino, fin dalla terza generazione, a partire da quella, non c'erano più esseri umani, c'erano solo pony. Poi hanno voluto fare qualcosa per collegare esseri umani e pony in My Little Pony e Questra Girl, ma quella è un'altra cosa, poi ne parleremo. E quindi devo dire che io mi appassionavo tantissimo ai pony da piccolo e quando poi sono cresciuto ho smesso di guardare la tv, poi ho saputo che avevano fatto questa nuova generazione di My Little Pony e ho detto, beh, vediamola. E sono rimasto piacevolmente sorpreso, anche perché poi ho scoperto che era stata Lauren Faust ad aver ricevuto le redini per dirigere questa nuova serie animata. Ma perché era stata fatta? Semplicemente perché l'Asbro aveva creato un suo canale per i bambini e per invogliare il pubblico giovane avevano deciso di rispolverare una delle loro serie più apprezzate negli anni 80-90 e appunto di riportare con un nuovo look i pony sul loro canale e scelsero Lauren Faust per ideare la serie animata. E direi che hanno fatto bene, cacchio, lei ha creato le super chicche ai personaggi immaginari di casa Foster, giusto per citarne un paio di quelli che ho visto io. E a parte i disegni che sinceramente non ho apprezzato tanto di queste due serie perché erano troppo minimal e per carità, è fatta apposta, erano in Cartoon Network che mi sto impallinando a dire. E quindi quello è lo stile di Cartoon Network e quindi per carità non voglio criticare quello stile, è semplice, pulito, lineare. Però un po' diciamo che io sono più fissato sui dettagli e quindi apprezzavo di più i cartoni che avevano un aspetto realistico. La serie animata di X-Men, per esempio, Capitan Planet, se non avete mai visto Capitan Planet, vedetelo, che è un cartone animato dove appunto i personaggi sono abbastanza realistici. Mentre appunto le super chicche e gli amici immaginari di casa Foster era estremamente stilizzato con personaggi geometrici e appunto cioè le super chicche avevano la faccia che erano tonne, che erano delle sfere, gli occhi tondi, tutto tondo era, proprio tutto tondo, tranne il professore che era tutto spigoloso, va bene. Quindi, a parte il disegno che un po' mi faceva storcere il naso, comunque le storie mi piacevano. Io delle super chicche ho il film in DVD che mi sono visto, rivisto e strarivisto e non vi dico quante volte ho visto gli episodi su YouTube delle super chicche, degli amici immaginari di casa Foster, cioè, sono belli, comunque mi piacciono. E così mi è piaciuta anche questa nuova serie di My Little Pony perché i disegni sono minimal, ma sono fatti bene, sono puliti, semplici, netti, proprio adatti ai bambini. Infatti, ricordiamocelo che My Little Pony è stato pensato, ideato e realizzato per i bambini. Se voi vedete un episodio made in America, non tradotto qua, vedete che appare un bollino sopra con la Y, quel simbolo significa che è un cartone per i bambini dai 6 a 10 anni, più o meno se non sbaglio, quindi appunto per un pubblico giovane. Quindi, però, è fatto per bambine, soprattutto, perché allora piace tanto anche agli adulti. Come mai questa serie che all'inizio, appunto, fino alla terza generazione, se la guardavano solo i bambini? Come mai a partire dalla quarta My Little Pony hanno cominciato a vederselo e ad apprezzarlo soprattutto gli adulti? Anche maschi, soprattutto. Come mai? Come anche dice Croax89 nel suo video che parlava di questo cartone del fandom, soprattutto. Perché è più facile trovare fan pony maschi che femmine? Beh, molti prendono in giro questa cosa, dicono eh, sono dei mammoccioni, magari, sono dei gulattoni, magari, sono degli stupidi. In realtà, questo cartone piace perché è fatto bene. Sarà anche per bambine, ma è fatto comunque bene e fa ridere. E un adulto, anche se adulto, se comunque apprezza i cartoni, se comunque è cresciuto con le serie animate e da adulto ogni tanto se le riguarda per sentirsi un po' bambino ogni tanto, o chi come me non è mai cresciuto completamente, dentro è ancora un po' bambino ogni tanto ama essere ancora un po' bambino e quindi queste serie comunque gli piacciono perché lo fanno tornare al passato e lo fanno sentire bene. Quindi, questi, questi broni che si sono chiamati così appunto i fan dei pony sono comunque persone che apprezzano il cartone perché è un cartone fatto bene. La trama non è complessa. All'inizio la Fausto pensava di creare una trama un po' più complessa con delle avventure più lunghe magari che ci volevano alcuni episodi per seguire tutta una vicenda. Poi però invece ha capito che il target è per un pubblico semplice e giovane. Facciamo episodi semplici e così ha fatto episodi soprattutto autoconclusivi veramente tu puoi vedere un episodio della prima stagione poi un episodio della terza poi uno della seconda poi di nuovo uno della prima poi uno della quinta uno della quarta uno della terza così alla rinfusa e non cambia potrebbe pure sembrare che siano prese tutte da un'unica stagione e e quello è ci sono l'evoluzione dei personaggi c'è ma è molto molto diluito e comunque è molto semplice è questo uno dei motivi per cui questo cartone piace perché è semplice ma non è stupido ed è difficilissimo fare una storia semplice che non sia banale e soprattutto un merito grandissimo che va a questa serie è che nonostante non ci siano turpiloqui parolacce sangue e violenza troppo forte è una storia che sono tante storie che appassionano infatti questa serie animata raggiunge il picco della bravura nella finale della quarta stagione quando la protagonista Twilight affronta Tirek il cattivo di quella stagione si affrontano con colpi di magia potentissima devastano tutto però appunto loro visto che si colpiscono e si difendono non è che a lei si mutila la zampa a lui si stacca l'occhio no niente violenza la berserk o comunque una violenza splattera l'anime come succede adesso cioè appunto senza troppa violenza senza le parolacce che sono all'ordine quotidiano quante volte uno capita a dire ma che cazzo faccia per dire la parolaccia una volta al giorno minimo ti scappa sempre e parlo magari dei preti perché le persone normali ne dicono pure 30-40 in un'ora quindi figuriamoci quindi creare una storia adatta ai bambini che se la possono vedere senza che sentano parolacce senza che vedano violenza è molto difficile la Faust c'è riuscita e così anche i suoi collaboratori fino al quarto perché in effetti io direi che la serie è salita con un po' di alti e bassi fino alla quarta la quarta ha raggiunto il picco poi alla quinta è precipitata giù perché hanno fatto veramente un sacco di stupidaggini hanno messo insieme molti episodi che se li potevano risparmiare ora non entro nel dettaglio poi quando sembra che stiano recuperando alla fine della quinta stagione ecco che precipitano di nuovo perché è stata conclusa in un modo assurdo che poi ovviamente questo lo dirò nei prossimi episodi perché pian piano analizzerò insieme a voi ogni stagione che è uscita ogni stagione finora ne sono uscite sei ed è in corso la settima quindi io sto valutando ovviamente questo anche con la mia mente da adulto che vede molti più particolari io lo so che il bambino certe cose non le nota si diverte e basta ma è anche giusto così in fondo una storia non deve essere complicata però ovviamente ci sono delle cose assurde che anche un bambino le nota perché dobbiamo metterci in testa che a parte me i bambini quando sono bambini non sono stupidi le cose cacchio le capiscono le riescono a capire certe incongruenze certe cose strane e quindi non si deve trattare i bambini come se fossero degli stupidi non bisogna fare un cartone stupido per i bambini e infatti molti cartoni di grande successo per i bambini sono quelli che li fanno imparare come Peppa Pig Peppa Pig molti dicono è disegnato di merda fa schifo cacchio ai vent'anni state zitto da vedere i bambini infatti i bambini adorano Peppa Pig l'adorano talmente tanto che è uscito anche al cinema per i bambini e ha sbancato al botteghino perché perché i bambini volevano andarla a vedere quindi che vuol dire che non è stupido non per i bambini è fatto per i bambini quindi per loro è perfetto quindi basta oh tornando a My Little Pony anche My Little Pony molti criticano tante cose anch'io lo faccio in effetti però anche se le critico comunque comprendo che molte cose sono state fatte perché era stato pensato è pensato per i bambini non per l'adulto che vede ogni singolo dettaglio però ovviamente li diciamo una lama a doppio taglio va bene che è per i bambini però potevi anche farlo meglio non tanto per gli adulti ma perché i bambini non sono stupidi e a un certo punto la cosa la capiscono che hai fatto degli sbagli però appunto il cartone è bello proprio per questi motivi bene e direi che con ben 16 minuti oltre di questo video noiosissimo concludiamo qui questa prima parte in cui ho appunto ripassato la storia le origini un po' la grossolana di My Little Pony e la struttura breve di come è fatta la struttura del cartone ho detto struttura due volte ma anche schifo e quindi per concludere questo primo episodio io voglio dire che My Little Pony è una serie che ha conquistato il pubblico anche adulto perché semplicemente è fatto bene non serve fare un comitato di tre ore per cercare di spiegarlo è tutto spiegabile in questa semplice frase il cartone My Little Pony piace tanto agli adulti quanto ai bambini perché è una storia fatta bene e infatti io adoro le storie di ogni genere io prediligo le storie comiche però adoro anche i thriller gli horror anche le storie d'amore basta che siano realizzate bene se una storia è fatta bene non importa il genere io me la vedo mi piace e questo è il punto e anche My Little Pony io sono adulto sono un maschio questo è fatto per bambine femmine però a me piace lo stesso perché è fatto bene i cartoni sono semplici ma puliti l'animazione è fluida e molto buona le storie appunto autoconclusive la maggior parte la stragrande maggior parte sono molto buone anche perché cosa più importante insegnano l'amicizia il valore di stare insieme il valore della tolleranza molti cartoni animati comunque non insegnano certe cose invece in My Little Pony appunto il tema principale è l'amicizia ma c'è anche l'amore la fratellanza ci sono molte storie in My Little Pony di questa serie che per esempio vogliono anche alludere al razzismo quando infatti c'è l'episodio di cui poi ne parlerò anche in un capitolo a parte in cui c'è un changeling cioè una specie di pony insetto che fa parte di una specie che è praticamente un po' cattiva lui viene denigrato quando viene scoperto viene trattato male viene guardato con odio senza dargli il tempo di dire che lui è diverso dagli altri suoi simili e tu lo vedi che è triste e disperato questo cacchio è un per me è un riferimento a cui molte persone si sentono isolate e si sentono colpite dal razzismo perché sono diverse e si sentono tristi perché non vengono gli viene dato la possibilità di essere giudicate per quello che sono dentro e non per come appaiono fuori e questo è un tema che comunque viene mostrato in più livelli e in più parti in tanti episodi di My Little Pony come vi spiegherò appunto più avanti ormai siamo quasi a 20 minuti meglio chiuderla qui quindi è un cartone che insegna i bambini ad essere amici gli uni con gli altri a non emarginare nessuno ad essere tutti quanti amici e questo è davvero un bel insegnamento che sono davvero pochi i cartoni che insegnano questo ed è l'unico a mio avviso che lo insegna così bene ovviamente si ci sono degli episodi veramente allucinanti che non si dovrebbero però non avrebbero mai dovuto far vedere poi ne parleremo appunto più avanti però a parte alcune pecche alcune cadute di stile il cartone vale per questi punti che ho detto se non l'avete mai visto guardatelo e provate a dirmi se sbaglio perché è veramente fatto bene ok ora basta non facciamo più i pappagalli chiudiamo qui questo primo episodio e ci vediamo alla seconda puntata in cui cominceremo a esaminare per bene per bene le stagioni di My Little Pony a partire appunto dalla prima stagione la seconda terza quarta quinta sesta avete capito la settima ne parleremo quando sarà conclusa alla prossima e ricordatevi signori che una delle canzoni più belle non è questa no non è questa ricordatevi che la più bella è comunque quella di scusate deve partire sì a me piace questo di più va bene oh ciao ciao